Oh, eccolo qua. Vedo che ti è passato il mal di stomaco, quindi domani vai a scuola? Sì, forse sì. Simone, scusa, ma quello lì è un tatuaggio? Non ci vorrebbe l'autorizzazione dei genitori per tatuarsi? Sì, ma come pensai mamma all'estero, altrimenti avrei chiesto la? Giuro. Si può sapere che fine hai fatto? Perché non mi rispondi mai?